alberghi pesaresi in sci all'effetto capitale della cultura da 5 a 25 comuni l'inarrestabile crescita dell'itinerario della bellezza spunta la neve in montagna ma nel pesarese rimane un inverno senza sci urbino a due mesi dalla tragedia stradale riapre la galleria cagulino 8 marzo di visite ginecologiche gratuite negli spedali di pesaro e urbino ben ritrovati su rossini tv e benvenuti al nostro telegiornale oggi è mercoledì 6 marzo e apriamo questa edizione occupandoci di turismo mancano infatti un paio di settimane a primavera e poco più di 20 giorni a pasqua pesaro comincia dunque a prepararsi alla bella stagione e il sistema alberghiero si riattiva rispondendo ad una domanda che sta cambiando in seguito al positivo effetto promozionale di pesaro capitale della cultura è un anno sicuramente molto particolare quello della capitale italiana della cultura pesaro si sta giocando bene le proprie carte anche a livello di promozione vediamo che la città inizia ad essere più conosciuta rispetto ai tempi passati questo ci conforta e speriamo sia una buona annata dopo diversi anni difficili quello che si può dire in questo momento rispetto alla stagione che sta entrando sicuramente che l'interesse c'è vediamo e sta cambiando un po rispetto alla situazione a cui siamo abituati di stazione balneare perché le richieste sono per i due tre giorni quindi periodi più brevi ma sicuramente inizieranno già dalla pasqua ad arrivare turisti e gruppi può cambiare diciamo il comportamento del turista anche questa logica dei due tre giorni cambierà anche il comportamento alberghiero aperture più precoci aperture anche fuori stagione ma sicuramente sì anche perché sta cambiando la domanda e quindi di conseguenza deve cambiare anche l'offerta molti alberghi si sono rinnovati stanno cambiando i propri servizi abbiamo rispetto all'anno scorso abbiamo già due hotel in più a regime funzionanti quindi in grado di accogliere i turisti e sta cambiando l'offerta dal punto di vista alberghiero perché ovviamente viene richiesto un servizio più flessibile nel momento in cui il turista viene per visitare la città e territori anche gli albergatori devono adeguarsi e dare offerte diverse la pasqua diventa un po il tradizionale semaforo verde al via del lavoro alberghiero per lo meno per chi non lavora 12 mesi l'anno è il si mantiene il classico momento del turismo sportivo sì fortunatamente anche quest'anno si rinnova il turismo sportivo scontiamo un po il fatto che è molto presto la pasqua perché è il 31 di marzo quindi ancora siamo in una fase un po difficile dal punto di vista meteorologico speriamo che il tempo tenga e di fare delle belle giornate non c'è solo l'effetto di pesaro capitale della cultura c'è anche l'effetto dell'itinerario della bellezza lo strumento promozionale della provincia di pesaro urbino che nell'arco di sette anni si è moltiplicato da 5 a 25 comuni aderenti in pratica metà della provincia l'edizione 2024 dell'itinerario di conf commercio marche nord è stata presentata proprio oggi presso il mississipi di gabice mare vediamo il servizio dopo la presentazione nazionale all'ultima bite di milano e prima di una campagna promozionale territoriale l'edizione 2024 dell'itinerario della bellezza ha avuto oggi la sua presentazione generale al mississipi di gabice mare punta costiera settentrionale di una provincia che oggi conta ben 25 comuni nella rete promozionale di conf commercio marche nord una strategia vincente che ha visto quintuplicare le amministrazioni messe in rete dalla partenza del progetto ormai sette anni or sono un appuntamento importante perché intanto ci sono nuovi comuni che sono nella guida che sono acqualagna borgo pace carpegna macerata feltria nuovi partner tra cui il consorzio del prosciutto di carpegna per noi molto importante perché una delle eccellenze della nostra provincia e poi c'è la novità di pesaro 2024 insomma del riconoscimento a pesaro di capitale italiana della cultura a cui abbiamo riservato tre pagine nella nella guida ma con una presenza costante in tutte le iniziative che che facciamo a livello nazionale la presenza poi oggi dei nuovi amministratori ci riempie di soddisfazione perché vuol dire che insomma è un progetto vincente perché da sette anni siamo passati da cinque comuni a 25 comuni che affidano alla conf commercio l'incarico della promozione il che vuol dire insomma che stiamo svolgendo bene il nostro lavoro peraltro la guida è solamente un'anticipazione di tutto quel lavoro che viene svolto durante l'anno basti dire che abbiamo già fatto la fiera di Utrecht in Olanda la fiera di Milano la fiera liberamente di Bologna la prossima settimana saremo a Napoli alla BMT la borsa del turismo di Napoli quindi tante iniziative collegate poi anche ad un grosso impegno economico per la comunicazione un impegno di promozione importantissimo che però non poteva che partire da un luogo eccezionale come il Mississippi qui di Gabice e il mare Gabice ha già sposato questo progetto già da diversi anni siamo arrivati mi pare a 24 comuni della provincia quindi una buona grande maggioranza di tutta la provincia di Pesaro Urbino quindi vanno i miei complimenti al direttore Varotti alla conf commercio perché hanno capito come si può fare il turismo come crescere a far crescere la nostra provincia la nostra regione in tutto il territorio italiano ma anche all'estero perché poi bisogna riuscire a essere bravi a intercettare anche il turismo estero oltre che quello nazionale l'ultimo dei 25 comuni ad aver aderito all'itinerario della bellezza è Montegrimano Terme unitosi negli ultimi giorni e dunque fuori dalla guida attuale ma quanto mai dentro le iniziative promozionali del 2024 sono invece parte integrante della guida le ultime quattro new entry di Acqualagna, Borgopace, Carpegna e Macerata Feltria è molto importante perché noi siamo un po' molto lontani dalla costa infatti siamo a 50 chilometri da Pesaro 45 da Riccione, da Rimini e da Cattolica quindi riuscire questo ci dà visibilità e quindi ci può portare qualche turista in più diciamo perché non è che noi nonostante abbiamo insomma delle cose, siamo uno dei borghi più belli d'Italia quindi abbiamo sicuramente cose da vedere con tre musei molto molto ben forniti però se non più visibilità si ha è meglio insomma ecco Si sta avviando alla conclusione un inverno da temperature sopra la media oggi però c'è stata una leggera spolverata di neve sulle cime dell'entroterra della provincia di Pesaro Urbino una piccola precipitazione che non cambia però una stagione altrimenti senza neve, senza sci nelle nostre montagne allora oggi abbiamo intervistato Michele Oradei Oggi 6 marzo una piccola spolverata di neve sulle cime di Catria e Nerone sull'appennino pesarese una precipitazione che va un po' in controtendenza a quello che è stato fin qui un inverno assolutamente avaro di neve con tutti i riflessi che questo comporta su un'economia del territorio che in questi anni ha comunque investito su questo tipo di ricettività Ne parliamo con Michele Oradei, gestore delle funivie del Monte Catria Purtroppo quest'anno come dicevi tu la neve è stata veramente poca questa è la seconda terza nevicata che fa ma non in grado di poter aprire gli impianti dobbiamo tener conto che purtroppo ciclicamente ogni 4-5 anni un'invernata così capita ricordo quella del 2020 che è stata identica a quella di quest'anno e poi lì allora è stato chiuso tutto per il Covid l'8 di marzo quindi alla fine della stagione è finita lì noi comunque siamo sempre aperti sabato e domenica cabino via rifugio abbiamo comunque ospiti che vengono per camminare per passeggiare perché la montagna è bella anche senza neve soggiornano al rifugio e quindi si fanno il weekend in tranquillità e in serenità C'è dunque anche un risvolto comunque attrattivo dell'escursionismo manca tutto quello che riguarda gli sport sciistici si manca solo le sci perché tutto quello che riguarda le escursioni è tutto aperto e quindi si può comunque fare anche senza neve si parla tanto di cambiamento climatico questa è una situazione in cui si rischia di doversi abituare ad altri inverni simili si io se ti devo dire la verità non sono molto preoccupato perché come dicevo prima ciclicamente ogni 3 o 4 anni 5 capita l'invernata così è chiaro che l'attività della montagna come stiamo facendo noi e anche tutti i nostri colleghi nelle Marche ma direi negli Appennini in genere e in tutta Italia va vista durante tutto l'anno Ed ora cambiamo argomento perché dopo più di due mesi ha riaperto al transito questo pomeriggio la galleria Cagulino di collegamento fra Urbino e Fermignano il 27 dicembre scorso il tunnel fu teatro della terribile tragedia stradale in cui morirono in quattro componenti di un'ambulanza dell'Apotes di Fossombrone scontratasi con un pullman di giovani studenti tutti illesi l'incendio che si creò all'interno della galleria ha creato danni per circa 4 milioni di euro dopo i primi lavori ANAS da oggi consente in transito su una sola corsia in direzione Fermignano mentre chi procede in direzione Urbino dovrà continuare a percorrere il vecchio tracciato adiacente Tutte le principali aziende di trasporto marchigiane si sono riunite oggi in regione con l'Unione Italiana Cecchi e Ipovedenti un tavolo di confronto per studiare nuove modalità operative per agevolare il trasporto pubblico dei portatori di disabilità visiva si lavora su novità nei dispositivi come annunci sonori e attivazioni di app dedicate sia su una nuova formazione del personale di bordo Ed ora occupiamoci delle varie iniziative dedicate alla festa della donna all'8 marzo una festa della donna che sarà anche all'insegna della prevenzione sanitaria con tante possibilità di visite ginecologiche gratuite negli ospedali di Pesaro, Fano e Urbino Una festa della donna all'insegna della prevenzione L'azienda sanitaria territoriale di Pesaro e Urbino ha organizzato per l'8 marzo visite ginecologiche gratuite presso gli ospedali di Pesaro, Fano e Urbino Agli ospedali di Pesaro e Fano le visite sono prenotabili telefonicamente giovedì 7 marzo dalle 12 alle 14 mentre all'ospedale di Urbino potranno essere prenotate nella stessa giornata dalle 9.30 alle 12.30 Per promuovere sani stili di vita e una corretta nutrizione nel Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e il distretto di Pesaro organizzano anche un infopoint sulla nutrizione speciale donna con un'apertura straordinaria dello sportello di consulenza nutrizionale in via Nitti 30 a Pesaro accessibile su prenotazione L'8 marzo poi le segreterie delle screening oncologici per mammella, colon, retto e collo dell'utero resteranno attive per tutta la giornata per informazioni e prenotazioni Per l'8 marzo è stato anche attivato un numero verde che permetterà di avere informazioni e prenotare screening per la prevenzione del tumore della mammella, della cervice uterina e del colon retto in base alla fascia d'età 8 marzo anche a teatro, nel prossimo servizio parliamo di uno spettacolo che apre un lungo ciclo di incontri organizzato dal comune di Isola del Piano In occasione dell'8 marzo il comune di Isola del Piano focalizza la sua riflessione sulla donna rurale Questo è il titolo di un ciclo di incontri che verrà affrontato in maniera trasversale con ospiti quali Don Ciotti, l'attivista ambientalista Vandana Shiva, il poeta Franco Arminio e l'orchestra Olimpia Per noi la donna rurale è un concetto molto moderno noi guardiamo con rispetto e ammirazione quelle che sono state le donne rurali di un tempo però siamo portavoce proprio di un cambiamento, un cambiamento sociale infatti le donne che oggi sono attive nei territori dell'entroterra, della costa insomma le donne che vivono la ruralità lo fanno in un modo completamente diverso da un tempo Un ciclo di incontri che sarà dedicato alla memoria di Graziella Bertuccioli e Stefania Gemignani che per anni hanno portato avanti i temi delle politiche di genere in provincia Due donne incredibili che lavoravano qui in provincia e che hanno reso possibile tante iniziative che sono state fatte dalla provincia iniziative di genere sulla violenza delle donne eccetera e loro ce l'hanno sempre e ancora oggi quando facciamo qualche evento ci chiediamo sempre cosa avrebbe fatto Stefania come l'avrebbe organizzato Graziella Ciclo di incontri che durerà fino al 15 ottobre giornata internazionale della donna rurale e che si apre l'8 marzo con lo spettacolo teatrale V.agina proposto dall'attrice forsempronese Giulia Bellucci Si racconta la donna con tutte le sue sfaccettature una donna che sa essere madre, una donna che sa essere femminile partiamo dal corpo, quindi dall'anatomia per entrare nella sessualità e poi dare anche qualche perla storica senza anticipare niente questo è uno spettacolo che nasce ispirato dai monologhi della vagina di Evansler Evansler scrive questo testo alla fine degli anni 90 la prima cosa che mi sono chiesta nel creare lo spettacolo è se ancora oggi fosse necessario ci fosse un'esigenza di parlare di vagina Evansler alla fine degli anni 90 lo fa proprio per sfatare dei tabù fortissimi, per farlo senza provare vergogna nomina l'innominabile in qualche modo oggi in realtà c'è una grande inversione di tendenza rispetto a 20 anni fa per cui c'è quasi una bulimia di corpi, di sessualità, una gratuità ecco col nostro spettacolo noi vorremmo raccontare il corpo con serenità dando il nome alle cose per proprio evitare falsi pudori e arrivare a viverci nel modo più giusto già sold out lo spettacolo V.agina che si terrà l'8 marzo alle 21 nella chiesa dell'Annunziata di Isola del Piano una tematica femminile affrontata con un titolo estremamente diretto perché effettivamente una volta che lo spettacolo è stato fatto è stato molto complesso venderlo nessuno lo voleva perché è un po' troppo audace perché forse un po' troppo perché meglio un po' meno in realtà questo è quello che mi ha fatto capire che effettivamente ancora le esigenze evidentemente c'è e quindi, e anzi, ecco siamo molto fiere io ho messo provocatoriamente V.agina perché a fine degli anni 90 era stato censurato il titolo per cui erano i monologhi della V. quindi il punto sta proprio a indicare quella censura e ho scoperto successivamente devo dire che agina in qualche accezione significa proprio forza quindi ci sta come un cappello nuovo Continuiamo a parlare di 8 marzo perché in occasione proprio di questa data saranno aperti gratuitamente a tutte le donne i musei civici Casa Rossini e Centro Arti Visive Pescheria sarà invece a ingresso gratuito per tutti il Museo Oliveriano in occasione dell'iniziativa Per via delle donne Raccolte per non dimenticare sarà invece il titolo del programma speciale che la Biosfera presenterà l'8 marzo alle 17, alle 19, alle 21 e alle 23 concentrandosi sulle immagini di sette figure femminili che hanno segnato la storia del territorio scelte e raccontate da studentesse del liceo artistico Mengaroni Dopo essere stato rinviato a fine febbraio a causa di problemi di salute dell'artista Amat informa che lo spettacolo Venere Nemica con Drusilla Foer sarà recuperato da giovedì 26 a domenica 29 settembre al Teatro Rossini di Pesaro I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date negli stessi giorni già previsti nel tagliando di acquisto di giovedì, venerdì, sabato e domenica Gli spettatori però che non riusciranno ad essere presenti possono chiedere il rimborso entro il 13 aprile Ed ora il nostro Paolo Pagnini in questa prossima intervista ci illustra che cos'è TEDx Pantano una novità assoluta che arriverà a Pesaro il 22 marzo Vediamo TED è un acronimo che sta per Technology Entertainment Design è un acronimo di un'iniziativa nata addirittura 40 anni fa in America con dei TED Talk che sono diventati una vera e propria forma di esposizione quasi un format hanno un obiettivo che è quello di dare spazio a idee addirittura che possono cambiare il mondo questo è il loro tema c'è la possibilità da qualche anno di realizzare dei TED localizzati nelle varie nazioni del mondo che si chiamano appunto TEDx con la X piccolina che per essere chiari noi diciamo TEDx ma comunque quello è va chiesta una licenza noi l'abbiamo chiesta e ci hanno dato questa possibilità noi siamo molto orgogliosi di questo e soprattutto siamo anche molto contenti del fatto che il logo il marchio TED sia così potente da averci permesso di vendere praticamente quasi tutti i biglietti senza neanche annunciare i nomi dei relatori Forza del marchio è la parte importante perché fa da garanzia di qualità e questo è quello che ci siamo prefissi noi stessi nel selezionare i vari relatori c'è un titolo però questa è la parte bella c'è un titolo che non è un tema e anche questa è una cosa un po' delicata non è un tema perché sennò risulterebbe una serata monotematica invece no però c'è un titolo che è i limiti intorno al quale noi abbiamo invitato i relatori a stare per cui ogni relatore nella sua personale visione del mondo e di che cosa può essere l'idea da raccontare per cambiarlo affronta l'argomento legandosi in qualche modo all'idea dei limiti per cui avremo un filogiofo avremo una manager avremo una cooperatrice internazionale avremo un ingegnere avremo insomma un po' di tutto lo scibile che si raduna intorno a questa idea del limite e questa serata è una serata a cui noi teniamo molto e di cui siamo molto orgogliosi va sotto il nome di TEDx Pantano e qualcuno potrebbe anche chiedersi perché Pantano e non Pesaro e lì c'è un discorso perché il format del TED è un format molto molto stringente è un format come sanno fare gli americani che dettano delle regole molto molto precise alle quali attenersi che prevede che il primo anno che tu chiedi la licenza non puoi ottenere per questo tipo di licenza che abbiamo avuto noi il nome della città devi proporre delle soluzioni alternative noi abbiamo proposto alcune soluzioni alternative tra cui Rossini e poi ci è venuto in mente Pantano io sono di Pantano per cui mi è venuto in mente Pantano e agli americani gli deve essere piaciuto questo Pantano probabilmente e chissà cosa si sono immaginati che volesse dire chissà perché per cui alla fine il TEDx è Pantano anche se si tiene all'astra poi in realtà che a Pantano non è ma tanto Pesaro è tutto un unico grande quartiere l'ultima cosa che voglio dire sulla quale poi vi lascio è questa che a far da preludio a tutto il TED ci sarà una sorpresa e la sorpresa invece la voglio fare ai telespettatori di Rossini TV la sorpresa è che ci sarà qualcuno che già solo per il fatto di esserci è la incarnazione del superamento dei limiti ed è lì perché è identificabile con Pantano quel qualcuno è Carlo Pagnini che sarà lì appunto impersonificando il superamento dei limiti già solo con la sua data di nascita 14 luglio 1928 e naturalmente farà un saluto in quanto pantanese doc a tutti quelli che interverranno al nostro TEDx Pantano e concludiamo questa edizione con lo sport ieri sera turno infrasettimanale per la Vis Pesaro che dopo due sconfitte è tornata a muovere la classifica pareggiando 1 a 1 a Pineto Vis in vantaggio sul finire del primo tempo con un colpo di testa di Nicastro è raggiunta dal gol di Chakir a un quarto d'ora dalla fine lotta salvezza che per la Vis proseguirà domenica in un'altra trasferta in quel di Arezzo prima di andare a vedere il meteo voglio ricordarvi quali sono i programmi che vedrete subito su Rossini TV infatti subito dopo questa prima edizione il nostro consueto spazio dedicato a Pesaro Capitale 2024 la natura della cultura questa sera un altro interessante appuntamento dove andremo a scoprire tutte le iniziative di questo anno meraviglioso e poi invece in prima serata alle 21.20 non perdetevi l'inaugurazione della nuova sede della Balzano Consulting Group una sede tutta rinnovata molto ingrandita e ricca di tanti nuovi servizi e subito dopo invece andremo a scoprire quello che sarà la giornata la terza giornata della cultura artigiana che ci sarà il 19 marzo noi saremo presenti con le telecamere chiaramente al Teatro Rossini intanto questa sera potrete vedere di cosa stiamo parlando e che cosa accadrà appunto il 19 marzo domani vi aspetto puntuali alle 7.20 in diretta su Rossini TV canale 80 chiaramente ma ci potete vedere anche in streaming sul nostro sito rossinitv.it sulla nostra applicazione oppure anche collegandovi alla nostra pagina Facebook e poi vi ricordiamo che domani torna una nuova puntata di Insieme a Canestro una puntata che insomma sarà un'occasione per fare anche un bilancio di come sta andando la stagione ma soprattutto dell'ultima vittoria in casa che ha rallegrato un po' tutti e allora Elisabetta Ferri intervisterà Giacomo Baioni che è il vice allenatore della Carpegna Prosciutto e con lui ci sarà anche Mirko Facenda giornalista Grazie per essere stati con noi continuate a seguirci anche sui nostri social io vi auguro buona serata